L'estate sta finendo e le scuole stanno per rieprire. È puntuale come le prime nuvole, arriva il momento di acquistare i libri. Sempre più italiani, esattamente uno su due, scelgono i volumi usati e Brindisi è una delle città in cui il libro riciclato costa meno. Lo dice un'indagine di Contribuenti.it, secondo cui la vendita di libri edizionari riciclati aumenta dal 36% dello scorso anno al 52%. Un aumento pari dunque al 16%, il doppio rispetto all'anno precedente. Il 48% del campione acquista testi riciclati per ristrettezze economiche, lo spiega in una nota l'associazione. Il 22% per abitudine, il 20% per combattere il carovita e il 10% perché semplicemente costano meno delle fotocopie. I libri scolastici vengono riciclati perché non servono più, secondo il 17% delle persone coinvolte nel sondaggio, per esigenze economiche, 39%, o semplicemente perché non erano piaciuti, 44%. In Italia la salenzione Argentina, Brindisi, insieme a Napoli, Aosta, Pescara, Roma, Udine, Venezia, Verona, Prato, Caserta, Bari, Salerno e Campobasso è tra le città dove è più conveniente l'acquisto con sconti mediamente del 50%. I maggiori affari si fanno sul web, dove è possibile acquistare con sconti che vanno dal 70% addirittura all'80%. Di fronte alla crisi economica, spiega Vittorio Carlo Magno, che è il presidente di Contribuenti.it, gli italiani reagiscono sfoderando tutta la loro creatività. Bisogna solo stare attenti a scegliere testi in buono stato, più volte è capitato infatti di acquistare libri sottolineati o evidenziati che rendono illeggibile il testo.